Sono già state dette diversi aspetti, di quelle che sono le criticità e tutte le problematiche che investono, sottolineo investono, tutto quello che sta dietro a questo progetto che sta andando avanti da anni. Una delle domande che mi faccio, mettendomi al posto del Governatore Rossi, è se mi sentirei in grado, in quanto Governatore di una Regione, di portare avanti un progetto che a oggi ha trovato tanti di quegli inconvenienti, tante di quelle critiche, tante di quelle puntualizzazioni che, a mio avviso, in un altro palese, in un'altra circostanza, nessuno avrebbe avuto il coraggio di sostenere. Nessuno se la sarebbe sentita. Naturalmente ciascuno lo fa col proprio spirito. Dico che io, da parte del Governatore, non so se ne sarei stato in grado. Quindi questo, il Presidente stesso ha detto che se ne assume tutte le responsabilità, beh, non potrà fare altrimenti. Questo adesso, in sede decisionale, ma domani, quando tutte quelle criticità, tutte quelle carenze, tutte quelle problematiche che adesso sono sulla carta e che ci appaiono forse, non lo so, lontane nel futuro, diventeranno realtà. Quindi l'Unione dovrà rendere conto, forse non più da quella sedia, dove adesso è seduto l'assessore, ma forse da un'altra parte. Ne dovrà comunque rendere conto ai cittadini, perlomeno dal punto di vista personale della sua responsabilità come Governatore. Lui stesso ha detto che se ne assume queste responsabilità, bene, ne prendo atto. E una cosa che tendo a puntualizzare, come ha detto anche prima il collega Sarti, trovo scorretto, è veramente stigmatizzabile da parte anche della Presidenza, l'osservazione che ha fatto prima nei confronti dell'Università. Ci tengo qui a ripeterla, perché i microfoni erano spenti, e invece è importante che si sappia che il Governatore ha detto, ha insinuato, e quelle sono le azioni, che l'Università fa tutto ciò perché vuole dei soldi. Ci tengo anche che venga messa a verbale, perché la persona che è stata accusata di questo è assente. E non trovo che sia corretto, perché dal momento che la persona è qui presente, si può anche ribadire, e in serie di correttezza si può anche avere uno scontro. Però la persona in merito che è stata citata non è presente, quindi ci tengo che questi avvenimenti non si ripetano più. I colleghi e la Presidenza sanno, penso che ne abbiano avuto atto, ne possano aver preso atto in questi mesi, quanto io sia corretta. Beh, mi chiedo al Presidente Rossi, che è al capo di tutto questo, che abbia la stessa correttezza nei confronti nostri e degli assenti. Deve essere un esempio da questo punto di vista. Non è accettabile. Questo qui, a livello iniziale, abbiamo citato finora criticità di questo nuovo progetto, criticità, carenze, mancanze, necessità di rivedere molti aspetti, dicendo che fanno parte della Prassi in questi percorsi, l'avevo sentito citare anche da un collega che ha molta più esperienza di noi dal punto di vista amministrativo. Ma è accettato anche l'aeroporto di Pisa, dicendo che anche esso ha delle criticità. Ora, voler mettere e fare un ben che minimo paragone con quelle criticità che giustamente ci sono e ci saranno, anche per l'aeroporto di Pisa, con la caterva, non lo so, la mole inqualificabile di problematicità che presenta questo aeroporto. Secondo me, anche questo, non so come si faccia a poter fare un'affermazione del genere, però anche di questo ne prendo atto e lo sottopongo all'attenzione di tutta l'Aula e di chi ci ascolta in questo momento. Sono così tante, come dicevo prima, secondo me, da far tramontare la volontà di portare avanti un progetto del genere. Ne hanno elencate alcuni colleghi e per semplificare non starò a ripeterle. Sono veramente problematiche di tutti i tipi. Ha citato anche il People Mover, un'opera in project financing che sta già presentando adesso in fase progettuale e iniziale una serie di problematicità, tra cui il possibile aumento del biglietto, doveva essere a costo zero per il comune di Pisa, non è stato così, avrà dei costi. Quindi delle volte forse citare altre realtà che dovrebbero essere per qualche motivo virtuose, forse non è proprio ideale ai fini di sostenere le proprie idee. Allora, l'invocare la massima attenzione, come ha fatto il Presidente, sull'impatto ambientale del nuovo aeroporto, quando appunto c'è questa quantità impressionante di studi e atti, che vengono anche dalla regione stessa, e per le quali chiediamo che venga data maggiore attenzione, è un lanciare l'allarme su un'opera intera, perché lui dice giustamente che non si appassiona della lunghezza della pista. La lunghezza della pista è uno dei fattori di rimenti, naturalmente non l'unico. Altri fattori fondamentali sono tutto il sistema avviario, sono tutto il sistema dei terminal, è molto più ampio, è tutto ciò che riguarda il sedime aeroportuale. Certamente però la pista è uno dei punti di rimenti. E per quanto riguarda lo studio che ha citato in maniera esaustiva il collega Fattori, si tratta di cui ho sentito citare anche prima. Allora, l'orientamento di eventi prevalenti non è un fattore così, diciamo, superficiale nell'ambito della progettazione di un intero aeroporto. È uno dei momenti cruciali, insieme naturalmente a quello che è l'impatto ambientale ed urbanistico. Quindi, se un'università, un'università, quindi non un ente qualunque, non lo studio di un qualunque appassionato, ha fatto degli studi basati su dei dati concreti che rivelano quello che lo stesso collega ha detto prima, che eventi prevalenti sono perpendicolari alla costruzione della nuova pista, secondo me non è un fattore che può essere preso con superficialità. E questo denota, secondo me, un atteggiamento nei confronti dell'intero progetto che presenta, se non forzature, che è quello che mi verrebbe da sostenere, perlomeno delle grosse stonature, che non fanno altro che ribadire quel che sono il pensiero prevalente da parte di molti cittadini toscani, sindaci, consiglieri, esperti, che questo aeroporto, questa nuova pista, presenta problematicità tali che, continuando a parlare di mitigazione, di opere di mitigazione, tra l'altro un accordo, cioè è necessario un accordo, a detta sempre del Presidente, per impegnare la società di gestione dell'aeroporto a fare che quello già dovrebbe. Io questa ridondanza di accordi, secondo me, non lo so, anche questo presenta delle stonature, a mio avviso. Quindi tutta questa attenzione alle opere di mitigazione. Una tale mole di opere di mitigazione dice chiaramente che quest'opera non deve essere fatta, a mio avviso, e avviso del gruppo del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, sempre riguardo dei venti prevalenti di questa questione, noi l'abbiamo presa così sul serio che un nostro deputato, Diego De Lorenzis, ha presentato un'interrogazione, anche rivolta ad Enac, riguardo all'espressione del giudizio di Enac, riguardo la creazione di un nuovo aeroporto, perché di un nuovo aeroporto si tratta, sulla base di questi studi. Quindi noi al contrario l'abbiamo presa molto sul serio, forse perché è davvero così cruciale come anche all'interno del NURV è stato detto, è stato citato. Rossi chiederà di chiedere al soggetto presentante ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Un momento, Toscana Aeroporti, se non mi sbaglio, ha tra i soci la regione toscana. Quindi forse potrebbe acquisire precedentemente questi documenti, e forse acquisendoli precedentemente, se li avessi acquisiti precedentemente, forse il Presidente ci avrebbe potuto già in questa sede chiarire maggiormente quelli che saranno i contenuti di ciò che Toscana Aeroporti presenterà poi in sede di conferenza dei servizi. L'osservatorio, l'osservatorio è già stato detto abbastanza. Cosa andiamo a osservare con l'osservatorio? Quelli che succederanno, i danni che si saranno già creati? Di questo c'è bisogno? Non c'è bisogno forse di un'analisi preventiva più attenta, e che se non si basi su un masterplan e se è un progetto che ha soltanto abbozzato, e che già nel suo abbozzo presenta tali criticità che veramente perde di senso l'intero progetto. Due precisazioni ai colleghi. Giustamente il collega Baccelli diceva, per noi è importante che sia costruito bene. Il collega ha letto queste criticità, che le ha lette bene, io immagino di sì. Ci vuole un bel moto di ottimismo pensare che con tutte queste criticità ci possano essere gli estremi perché sia costruito bene. La difficoltà di valutare poi questo masterplan sul progetto preliminare non è paragonabile alle opere che il collega citava nella sua esperienza precedente. Si tratta di superfici più ampie, di un'opera completamente diversa, che investe anche il sottosuolo. Non è paragonabile, come non è paragonabile nemmeno la costruzione del centro commerciale che invocava Prima Rossi. Nessuno si è mosso per il centro commerciale. Vuole forse paragonare questo nuovo aeroporto al centro commerciale? Ha la benché minima idea di cosa sta paragonando? Questa è una domanda. Il collega Vambagioni dice, è giusto mettere in sicurezza per Ettore. È giusto, è stato definito strategico con riserva per anni. Questo la dice lunga, secondo me, su certe forzature che si possono fare in sede apicale nelle istituzioni. Un aeroporto a rischio, che è sempre stato a rischio, come sanno tutti i comandanti che sono atterrati lì. Io ho avuto la fortuna di lavorare in ambito aeroportuale e un poco di esperienza del settore aeroportuale ce l'ho. È stato definito strategico con riserva per moltissimi anni, con tutti i rischi che questo comportava. ENAC ha diverse criticità perché nello stesso tempo è controllore e controllato di vari progetti che vengono presentati. Io mi sento di avanzare delle serie preoccupazioni che sono quelle di molti cittadini, quando tutte queste valutazioni, tutte queste mitigazioni e tutte queste forzature che io personalmente ravvedo nei documenti che mi vengono presentati, vengono pervicacemente portati avanti. Grazie.